Vabbè dai Secondo me abbiamo esaurito l'argomento Secondo me dobbiamo vedere un'altra cosa almeno Rivedere Ovvero il trailer di Animal Crossing New Horizons X Super Mario Quindi dicevamo abbiamo finito Vediamo solo quello Secondo me Supergirl Crossing New Horizons Ci scrive Super Mario Sì Vediamo questo e poi basta E poi il momento intimo finale Esatto Ok ci sto Eccoci Il gioco di Animal Ah ah i vestiti Allora I personaggi vestiti da Mario non mi piacciono Perché sono sproporzionati devo dire Gli oggetti sono bellissimi però Perché sono sproporzionati? No perché Vedere Mario con queste proporzioni non mi piace Ma poi saldano Non hanno mai saldato i pupetti Puoi morire su quel coso? No saltano Saltano Tipo Per saltare piccoli gatti Saltano Oh però i tele trasporti sono comodi Prima non c'erano Cioè se tu puoi salto il tubo Tipo tele trasportano nella città Ma tu puoi andare a mettere anche le isole degli altri? Sì Ma tele trasporta nel nulla No non mi piazzi tu Sì ma non lo so se ti trasporta solo in un mondo tipo fatto per forza la Mario capito? No penso che tu piazzi due tubi e ti trasporta da uno all'altro Ho capito però Non lo so se c'è Lì entrava in un mondo di puro Mario capito? No ma penso che è raddobbato così Ti so che sta fatta apposta che la puoi fare solo così? Ah no 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 Penso che siano oggetti che puoi Ma mi spiegate che è sto Super Nintendo World? È un parco a tema Ma quando esce sto parco a tema? Hanno fatto Hanno fatto il 18 dicembre questo direct in cui lo illustravano Eh sì ho visto ma è uscito? Cioè funziona? Esiste? Esiste sì 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 esiste esiste Se è attivo non lo so Non mi ricordo se è già aperto Boh sta cosa è assurda Qui ci voglio andare assolutamente Eh lo dicono in tanti Dai è troppo bello C'è il sogno di tutti per me Bah Di tutti a parte A parte Francesco Va bene ragazzi Allora Arriviamo all'ultimo momento Cioè il momento intimo Che Deve annunciarlo Simone Momento intimo Ok In questo momento intimo parleremo tutti molto piano Come c'è Molto bassa Devi allora aumentare il nostro audio forse? No perché penso che funzioni lo stesso Ok Aumenteranno loro il loro audio I loro si apposta con i 3 quindi Esatto Va bene E io penso che Il nostro primo episodio Sia giunto al termine E è stato Un episodio molto molto bello Secondo me È stato un bel episodio Dici cosa c'è stato Bello Diego Dici cosa ti è piaciuto di questo episodio Devo dire che Devo dire che pensavo non ci fosse nessuno Invece ci sono state Direi abbastanza persone Anche se Dobbiamo ringraziare maggiormente i nostri amici Diego Esatto Invitate da altri Però Sono contento che i nostri amici Abbiano appoggiato la nostra live E quindi Anche se secondo me volevano solo vedere il direct Però Però Sì però potevano vederlo da soli E invece hanno deciso di finanziarci Invece hanno i big money Esatto Facendo i nostri big money Ok Inoltre sono felice di aver cominciato un nuovo progetto Che è il mio progetto Questa è la cosa importante Con il quale ci rivedremo molto presto Perché Ora devo preparare un attimo come streammare E poi sarò pronto Dico E quindi Questo secondo me Sarà un bel progetto Che andrà a finire molto bene Andrà a finire molto bene Sembra tipo Che è un progetto di una settimana E poi Buono No no Poi ringrazio anche i miei amici Nonché Grandissimi esperti Simo Dom Simo Simdom Simo Simdom 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 Simone E Ciccio Che Nonostante In Polonia Se non mi sbaglio Nevichi È riuscito lo stesso A collegarsi Grazie penso Il suo cellulare Ti sei collegato con la connessione Del cellulare No no In Polonia C'è anche quella fissa Tranquilla Ah ok Però con il nevico Che ne sai Può essere un funzione Ah no no Mi attacco a quella del vicino Ah ok ok Tranquillo Va benissimo Cosa ne pensi Della recente Della recente Debacle Di Project Red E quindi È finita La serata Ragazzi La live È finita E Grazie Cosa ne dici Di fare un ride Ma che è un ride Uno dei tre Però da allora Dovrebbe rimanere Io rimango Io rimango Vai Come si fa Per fare un ride Cercalo su Google Dovrei scrivere tipo in chat Ride Però dopo Non so con che punteggio Dura E poi il nome del canale Ugalone Lo facciamo a Ugalone No facciamo la Runner Guy Che sta facendo Carino Stai imbendato Ma se ci vuoi andare vai Va bene Va bene Aspetta che cerco Come si fa Allora Come Ah si però è vero Dai facciamo la Ugalone Che c'ha 56 spettatori Almeno gli portiamo Questo unico spettatore Esatto Allora adesso Io cerco Ugalone Allora come fare Il ride su Twitch C'è Salvatore Aranzulla Grazie Salvatore Io direi di fare un ride A Salvatore Aranzulla Allora devi scrivere Ride Allora devi scrivere Eh Questo Allora aspetta Ah devi scrivere Questo Ride Channel Ti lo fai allora? Eh però a chi? A uno che ce ne aboghi Così ti ringrazia Come si chiama? Esatto dai Fallo a Ugalone Eh ma come si chiama? Ugalone Scritto come? U-A-L-O-N-E U-A-L-O-N-E Così ma lo devo scrivere Tra parentesi Oppure Tra parentesi Quadri Oppure Sì non lo so Vedi che ti dice Aranzulla Vedo Aranzulla Come lo fa Praticamente Devo fare Ride E host Ok 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 Ma questo momento intimo In cui devo Ha chiuso Valone No No non lo devo scrivere Allora fanno un altro Dimmi un altro E uno che ha pochi spettatori Vedo solo Diedon Diego Anch'io Vabbè facciamolo a qualcun'altro Chi serve Fallo Che ne so Io vedo C'è sta Pregianza Che c'è la 298 Vai Pregianza Allora Victor Slazo 88 Rian Dena 2,45 Gianluca Iacono C'è la 153 Vai Gianluca Iacono Come si chiama? È Gianluca Iacono Underscore Official Iacono con la I? Sì Iacono Tutto attaccato Gianluca Iacono Tutto attaccato Underscore Official Official Ok Ma sta Ma sta giocando E non è lui Ma allora non glielo fare Fatto Dai Fallo al Runner Questo canale Ha Fallo al Runner Una chat Solo per follower O per abbonati Diedon Diego Usa Raid Gianluca Iacono No L'hai fatto davvero Va bene Fai un Raid Quindi Fai Eh l'ho fatto Vediamo Diedon Diego Sta parlando Insieme ad altri Unutenti Ok ragazzi Mi sa che noi siamo Cioè mi sa che noi Siamo finiti No Ancora ce l'abbiamo Ancora siamo Non siamo in live Soprattutto c'è Luca Iacono Chiuso O no Dai davvero Non siamo in live No no Diedon Diego Sta parlando Insieme ad altri Unutenti No 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 Siamo in live Ancora Ok Ok Allora quindi Diciamo di chiuderla qui Di chiudere il momento intimo Ringrazio i nostri ospiti Che l'ho ringraziati prima Quindi non li ringrazio un'altra volta Soprattutto L'ho ringraziato Ciccio che tutto il tempo È stato a dire Andate su altri live E questa cosa Non mi è piaciuta Dimmi Da Gianluca Iacono C'è scritto che Diego Sta facendo Un ride Insieme ad altri utenti Ma io perché Te l'ho detto Noi non ci stiamo Già siamo andati via Dalla nostra live Ah appunto Però Dio è rimasto sulla live No C'è scritto che stiamo in live Eh ma se tu clicchi sul canale Stai da Gianluca Iacono Non ci stiamo più No in live Dio andiamo Sto ospitando Gianluca Iacono Sto facendo un ride Insieme ad altri utenti Ma no guarda Perché te l'ho detto Noi non ci stiamo Cioè già siamo andati via Dalla nostra live Ah ok Noi continuiamo a trasmettere Ma Simone è andato da Iacono In più ospitiamo Perché forse un ride Ma no ma io che tu dici No no Io sto ospitando Cioè sto ospitando Gianluca Iacono Official Sul mio coso Quindi tu se vuoi Puoi partecipare Gianluca Iacono Ok 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 E va bene Allora Finiamo questo coso Vabbè io volevo Vorrei dare Runner Guy Comunque ve lo dico Stream Elements Failed to run commercial Please try again Che vuoi dire Eh non lo so È qualcosa di Gianluca Iacono Secondo me Vabbè non mi interessa Ciao a tutti ragazzi È stato bello E ci vediamo Buonanotte Buonanotte E ci vediamo Alla prossima live Restate connessi con il canale In modo tale che Potrete vedere La prossima live E ora Ah ringraziamo anche Ciccio Che ci ha fatto La sigla iniziale E la sigla finale E finale Che non avrà visto nessuno Perché l'hai dati via prima Ma siccome non c'era nessuno Però Però lo ringraziamo lo stesso E andiamo con la sigla finale Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Bella Ciao Ma noi ci salutiamo anche noi o no? No aspettate No no aspetta un attimo Ciao 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 ciao